...un quartiere di Seoul, in Corea del Sud, tutto dedicato all'arte, ci sono gallerie, c'è il vortecchio d'artigianato, insomma c'è un sacco di roba. E tra le tante cose interessanti c'è un locale tutto dedicato alla merda. Ecco qua, cacca, 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 questo è il menu, cacca, cacca, questa è l'insegna. Grazie. Ecco, questo è un albero di cacca invece, bellissimo. Adesso di che cosa saprà sto caffè? Grazie.